secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie matteo moscao sfacciami tutto sfacciami pure sta minchino no no allora primo tiro ripata allora fammi una cosa posso chiudere solo una cosa non per cattiveria i nostri amici pinguini si potrebbero mettere dietro la porta così noi lo scoltiamo ci aiutate ripassate palla al vostro caro amico manca poco 110 11 12 ok 112 interrompi oh eh 58 secondi lucatoni fammi una sega coglione no scherzo lucatoni che d'altro abbiamo fatto sesso l'altro giorno la tratta che farsi il piercing hai capezzoli porca troia quei capezzoloni mi hai tolto qualcosa o sono dentro mi hai tolto mi hai tolto mi hai tolto ma sei un coglione ma sei un coglione tolto cà è un coglione che sto facendo ok ci sono ok aspettiamo un attimino che adesso entrino grazie mille Luca in god mod ma scam di cosa no vi scrivo tutti ragazzi ora guarda Luca in god mod ok grazie mille Luca in god mod grazie mille Giulianova Giulianova ragazzi in chat adesso li saranno a spammare 5k no 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 la cosa è questa lui faceva 5.000 euro al mese adesso ne va di più il bagliaccio Simo difendimi te almeno ma ne stai facendo almeno 6 e mezzo voglia ma almeno se gli va male 6 bombe e mezzo solo da Twitch senza sponsor no ruota tieni tieni aspetta che faccio da dietro bravo bravo vai la ruota si Holding si ti c come mi 4 a 3 Pata 4 a 3 per Pata Se Pata segna vince Aspetta c'è l'ambulanza Aspetta Ambulanza E respirazione bocca a bocca Minchia potevi sceglierte uno bello almeno però No scherzo scherzo patatini Io sono inguardabile Cioè guardatemi Cioè io sono un essere umano Cioè guardate che schifo faccio schifo Cioè io sto stremando così Teresa non faccio schifo vero Rosso tu dopo che ne hai il gatto così Assomiglia ai ragazzi che mi piaceva prima E no perché ride Mi senti o non mi senti Allora Allora Aspetta calma Esci e poi ri No Bomba Sono innamorato Ragazzi mi sono innamorato Mi sono innamorato ragazzi Ragazzi mi sono innamorato Mi sono innamorato ragazzi Eh eh ragazzi Ragazzi mi sono innamorato Aspetta vatemi scriverle Non devo perderla Non devo perderla No 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 mettere qui lo Sì no è normale Lui è più in punta pistola No no Ti prego metti mele in bocca Ti prego in bocca No Così ripeti quello che hai detto con la pistola Mi metto il mele in bocca No 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 ti dissocio Ti dissocio Ma Sei la fidanzata del rosso? No Sei quasi la fidanzata del rosso? Vai vai Elimina No ma rispondi Cioè siamo qui Stiamo indagando Eh dimmi non accanto Ragazzi la voglio io Ragazzi la prendo io Simo Secondo voi No non sono di Napoli Sono della Puglia Simo possiamo fare un appello di te? È vero perché Arro Patatine Io sono gelosa comunque Mi stai facendo arrabbiare molto ultimamente No 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 Ma ti spiego Tutto Dove sei? Allora Cammi Ormai ti ha tradito il rosso No no Vai Vai Bello Ah 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 Non mi sento Sotto la luna La luna stellata La notte dell'amore Ma dai ma che furia già No basta questa esultanza È mia questa Non devi toccare Ragazzi che scuola ti fate? Kinder Una meno Juve 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 Un'altra in meno Martina Juve A te Juve Simona te cosa avevi detto? Io niente Fuori Tessa Juve Va benissimo Va benissimo Tu vuoi fare quello che vuoi Non è importante Grazie mille Zender per la sub Grazie mille Zender per la sub Quando ti fermi Milano quando sari scusa? Non c'è solo perché Valero me l'ha appena scritto ovviamente Io? Sì no Valero vorrei sapere quando ti fermassi qua Due giorni Perfetto per beccarci Ok Ok Vroom Dritto alla meta